Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti tv, prosegue la settimana tematica di Le Fonti, intelligenza artificiale 5G, nella prossima un'oretta parleremo appunto di intelligenza artificiale e 5G, la pandemia da Covid-19 ha messo le aziende di fronte a uno scenario inedito che le ha costrette a rivedere i propri processi, i propri modelli operativi. Questo nuovo contesto ha definitivamente accelerato la diffusione di un processo di digitalizzazione che di fatto era già in atto, spingendo in particolar modo l'applicazione di tecnologie, strumenti e modelli come la per esempio Robotic Process Automation, i Predictive Analytics, il Machine Learning e l'intelligenza artificiale sui processi in particolar modo di business. Tutto ciò ha abilitato nuovi scenari, creato nuove abitudini e ha aperto un nuovo dialogo tra uomo e macchina. Noi certamente oggi parleremo di alcuni argomenti in particolar modo in questo scenario che si prospetta sempre più caratterizzato da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità, l'acronimo famoso insomma VUCA, quali sono le applicazioni di queste tecnologie e meglio anzi su quali applicazioni di queste tecnologie sarà necessario che le aziende puntino non solo per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità di business ma per ottimizzare le attività, predire scenari futuri e vivere da protagonista il cambiamento in atto. Vado subito a presentarvi il nostro panel, Alessandro Barchetti, Digital Innovation Director UNES Supermercati. Buon pomeriggio Alessandro, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Matteo Coloberti, Head of Business Intelligence Infinity, Gruppo Mediaset, buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora per l'invito. Stefano Gatti, Head of Data and Analytics NEXI, buon pomeriggio. Allora, noi non abbiamo sentito Stefano Gatti, però andiamo velocemente verso l'ultima persona di questo panel, Nino Guarnacci, Principal Solution Engineer Salesforce Italia. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Ciao, grazie a tutti, grazie dell'invito. Allora, prima di scendere nel dettaglio, proviamo a contestualizzare il momento storico in cui questi giorni si inseriscono. Gatti, vorrei partire proprio da lei. In questo scenario di emergenza, qual è stato il ruolo dei dati e quali sono le prospettive che si stanno aprendo in questo momento per il futuro? Innanzitutto, buongiorno a tutti, spero che si senta. La sentiamo perfettamente. Perfetto. Partiamo da una considerazione per valutare un po' qual è il ruolo dei dati in questo momento storico. I dati, in generale, negli ultimi vent'anni, per quantità, qualità e direi velocità, sono diventati una rappresentazione sempre più accurata del mondo fisico e dei suoi fenomeni. Partendo da questa considerazione, vediamo un attimino quali possono essere i ruoli che il mondo dei dati, soprattutto nel mondo delle organizzazioni, sta avendo. Quali sono un po' le prospettive che i dati possono dare e aggiungere in generale alle organizzazioni. Innanzitutto, sicuramente i dati sono un monitoraggio fedele di quello che sta succedendo. In questo senso, per esempio, anche all'interno di un'organizzazione come Nexi, noi stiamo monitorando, usando i dati per monitorare come, per esempio, cambiano i comportamenti in questo frangente di difficoltà anche a livello di transazioni, di come possiamo usare le transazioni per i normali acquisti. Quindi abbiamo visto una modifica dei comportamenti dei consumatori, ma anche dei commercianti, un modo diverso con cui ci si confronta e si attua il proprio business. In secondo modo, in seconda battuta, monitorando e comprendendo meglio quello che sta succedendo, si influenzano, si riesce a influenzare in maniera positiva le azioni, le facilitazioni che possiamo, per esempio, fare all'interno del nostro business. Un esempio, nel nostro campo abbiamo aiutato i commercianti, anche quelli, i negozi di prossimità, a pagare in maniera semplice. Abbiamo lanciato, per esempio, Pay by Link, che è un modo facile con cui anche il piccolo commerciante può pagare in maniera veloce e sicura. In terzo luogo, i dati sono il carburante anche per l'intelligenza artificiale e per quindi aiutare il business, anche chi deve usare le leve della strategia del comando per fare previsioni. In questo caso, dati, intelligenza artificiale, sono un modo per prevedere non il futuro, ma direi i futuri possibili. Futuri possibili, quindi di generare scenari, che per rendere robuste e, oserei dire, in senso moderno, antifragili le organizzazioni. Previsioni che, attenzione, oggi sono comunque di breve periodo perché il mondo che stiamo vedendo, che stiamo vivendo, è diventato un mondo complesso, con tante variabili e quindi ancora più difficile da prevedere. Questi sistemi aiutano a prevedere, ma danno un aiuto di breve periodo. In completo cambiamento, in completo adattamento, quindi in logica molto agile, anche i dati, ma soprattutto gli algoritmi, devono adattarsi a questi cambiamenti. In questo senso, credo, i dati, ma anche questo momento molto dinamico, ci sta aiutando a portare sempre di più verso il business, dati, intelligenza artificiale e modi diversi per affrontare in maniera dinamica il futuro. Ecco, Guarnaci, vorrei chiedere quali macro trend avete individuato nell'applicazione di data analytics e algoritmi di machine learning sui processi di business e certamente quali sono gli sviluppi futuri? Allora, di base, sempre più le aziende stanno imparando ad utilizzare l'analisi dei dati, l'estrazione delle intuizioni dei dati e l'intelligenza artificiale per interagire e comunicare in maniera sempre più forzionalizzata con i loro clienti. Sino, questo è, diciamo, oramai un'evidenza. Quindi, provocatoriamente, mi sentirei di dire, è ancora giusto parlare di vendita di prodotto, di vendita di servizio. Cioè, molte aziende in questo periodo sempre più si stanno cimentando nella vendita della customer experience, cioè nell'esperienza cliente, un'esperienza cliente che è sempre più connessa. Connessa grazie a queste tecnologie, quindi il macro trend è sicuramente il fatto che la connected experience sia diventata un po' il motivo con il quale competere con le altre aziende. Considerate che, secondo uno studio fatto, i risultati di uno studio fatto che si chiama State of Connected Customer, il 74% dei consumatori intervistati ha dichiarato che preferisce acquistare da aziende che sono in grado di anticipare i loro consumi, di suggerire i loro consumi. Il 70% di questi ha dichiarato che sempre più è facile cambiare brand. Quindi è molto più difficile fidelizzare una customer base, perché ci si muove sulla base dell'esperienza, dell'engagement che si ha con l'azienda. Ma il dato più importante è che l'80% di loro ha dichiarato che è molto più importante l'esperienza di acquisto che il prodotto in sé, a parità di qualità, chiaramente. Quindi che cos'è che noi stiamo fotografando come azienda anche rispetto ai nostri clienti? Il fatto che si sta creando un solco tra le aziende e i consumatori. Un solco che alcune aziende riescono a colmare attraverso l'indirizzamento delle aspettative. Sapete, noi come cittadini ci aspettiamo di poter fare la richiesta del certificato di residenza direttamente dal nostro cellulare. Quindi immaginate se questo è nel mondo della pubblica amministrazione, quali tipi di aspettative ci sono da parte dei consumatori nel mondo delle aziende private. Ecco, queste aspettative di digitalizzazione che passano attraverso delle tecnologie e anche ad esempio di raccolta dati, di analisi, di estrazione degli insights, c'è l'estrazione di un'intuizione e quindi l'utilizzo di tecnologie e di intelligenza artificiale aiuta a colmare questo gap. Quindi c'è un'opportunità incredibile in questo momento che è colta solo da alcune aziende. Se noi guardiamo ad esempio i processi aziendali, proviamo a fotografarli in maniera quasi asettica. Vediamo il marketing, la parte commerce e sales, la parte di customer service, di supporto e la parte di riconnessione, quindi che ci permette di iterare, quella che ci permette di dare dei messaggi rilevanti per poi reingaggiare. Ecco, all'interno di questi processi aziendali, i macro trend in questo momento legati alla parte di analisi dei dati, di intelligenza artificiale, stanno facendo una padrona. Immaginate solo nel mondo del marketing che cosa vuol dire fare personalizzazione di un'offerta in una modalità uno a uno, quindi riuscire a cucire l'offerta di servizi proprio esattamente rispetto ai gusti di quella persona. Oppure nell'ambito delle vendite, immaginate cosa significa riuscire a studiare il comportamento di quella persona, di quel tipo di acquirente e proporgli una next best offer personalizzata alla sua esperienza utente. Oppure immaginate tutti gli strumenti che oramai sono un po' alla portata di tutti, i bot che ci permettono di ridurre il numero di problematiche che si vanno a creare fra l'azienda e i clienti, migliorando la customer satisfaction. Quindi sono tutti trend che sono inerenti al mondo dell'intelligenza artificiale e della raccolta dei dati e che impattano su tutti questi processi di business a 360 gradi. Quello che però voglio dire per concludere è che fotografiamo altrettanto delle problematiche legate all'adozione di queste tecnologie da parte dell'azienda. Sono principalmente i costi di implementazione, le competenze, la disponibilità degli skill sul mercato, la capacità di misurarne i valori una volta implementate e sicuramente l'aspetto di regolatorio, cioè l'aspetto di un uso etico di queste tecnologie. Quindi se ho dato una buona risposta quali sono i macro trend vorrei chiudere questa risposta dicendo alle aziende, rivolgendomi alle aziende, che è importante scegliere un partner piuttosto che un fornitore di tecnologia che vi accompagni lungo tutto il percorso, perché è un percorso avventuroso, avvincente, però è un percorso che deve essere fatto con attenzione. Adesso parliamo però anche delle sfide per quanto concerne il settore. Barchetti, vengo proprio da lei. Quali secondo lei ovviamente saranno le sfide più interessanti soprattutto per chi lavora direttamente su progetti in cui i data analytics e il machine learning ricoprono un ruolo centrale? Buongiorno a tutti di nuovo. Io partirei poi dal concetto che avete sommariamente esposto prima, che è quello del buca, questa situazione che stiamo vivendo in questo momento in cui volatilità, incertezza, ambiguità e complessità sono praticamente la descrizione del periodo che stiamo vivendo. Come si affronta una situazione del genere? Si affronta con una visione chiara del futuro, con una chiarezza di quello che sono gli obiettivi, le addizioni aziendali, con una comprensione del mercato e quindi con gli skill, come diceva prima Nino, con l'agilità, con la capacità di muoversi in fretta anche sbagliando. Facendoci caso, l'acronimo di queste soluzioni al buca è sempre buca e questo fa abbastanza sorridere. Avrei bisogno di spiegare un po' prima che cosa, come l'azienda in cui lavoro, che è l'azienda UNES con i supermercati, un due supermercati, un due supermercati, un due supermercati, un due supermercati, si muove in questo panorama in questa industria. Sostanzialmente è un po' una mosca bianca perché, differentemente dagli altri, applica un modello di business che si chiama Every Day Low Price, dove di fatto non ci sono state in passato, nessuna attività particolare di rilevazione, di informazione dei clienti, non ci sono volantini, non ci sono carte fedeltà. In una situazione di questo genere potete capire che la complessità che si sta creando in questo periodo, cioè la mancanza di informazioni sui utenti e sul loro comportamento, diventa complicata, diventa una questione da risolvere per poter gestire situazioni così complesse. Di fatto quindi, che cos'è la sfida che stiamo affrontando? È quella di un piano di innovazione digitale olistico, con la creazione di un dipartimento ad hoc, che è la direzione di innovazione digitale, che mi pregio di guidare, e questo piano andrà a toccare tutti gli aspetti del business, di ogni funzione aziendale e verrà ristrutturato il modello in cui queste funzioni operano, ma soprattutto, e questo è il centro dell'intero processo, verranno raccolti, stoccati, naturalizzati, normalizzati tutti i dati presenti in azienda, anche i dati disponibili di terza parte, in modo da costruire un modello che poi verrà erogato tramite business intelligence alle stesse funzioni che lo potranno utilizzare, per, anziché agire di iniziativa senza informazioni precise, potranno lavorare esclusivamente sui dati a disposizione. Queste informazioni poi sarebbe bello e opportuno che potessero arrivare direttamente ai clienti, perlomeno in parte, in modo che i clienti siano abilitati, siano informati meglio e possano di fatto fare delle scelte consapevoli, ma di quali dati stiamo parlando? Stiamo parlando sicuramente di dati qualitativi e quantitativi, di dati strutturati e non strutturati, di dati provenienti da fonti diverse che possono concluire in un'unica visione organica di questi dati e che possa fornire una serie di informazioni. Quali dati, da dove vengono questi dati? Dalla filiera di approvvigionamento, per esempio, il produttore, i metodi di produzione, le certificazioni del produttore, nel caso dei prodotti DOP, dei prodotti certificati è necessario sapere se quel produttore effettivamente è in grado di produrre questi prodotti. La filiera, la catena del freddo per i prodotti freschi, se viene rispettata o meno, e questo è un tema importante perché si basa su sviluppi tecnologici disponibili già oggi, ma che vanno ben organizzati, come l'utilizzo massiccio di sistemi IoT. Abbiamo detto che non abbiamo dati dei clienti, ma questa è una cosa che dovrà essere sviluppata, quindi dovremmo raccogliere dei clienti, ma non per farne un uso strano o particolare, ma quello per fornire un servizio, come diceva appunto Nino prima, un servizio personalizzato, un servizio tarato su quelle che sono le loro richieste, quelle che sono le loro aspettative rispetto al servizio di un supermercato. Tutti questi dati verranno comunque sia convogliati in questo sistema di business intelligence e poi resi disponibili ai clienti tramite un applicativo. Questo applicativo, probabilmente un'app da scaricare sullo smartphone, è già in produzione, sicuramente sarà anche disponibile in altri canali, è già in produzione ed è ancora in fase di sviluppo, perché stiamo agendo in modalità agile, quindi abbiamo già un prodotto fuori, ma che verrà sviluppato, migliorato in seguito. Invece, dottor Coloberti, lei è d'accordo con la valutazione di Barchetti? In caso no, qual è la sua opinione? Buongiorno a tutti. Vorrei partire da, sono d'accordo sulle cose che ovviamente ha detto Alessandro, ma vorrei partire un attimo da una cosa che ha detto Stefano prima. La situazione del Covid ha cambiato un po' il mondo attorno a noi. A marzo di quest'anno circa il 60% della popolazione italiana era online, confrontata a un 55% dell'anno precedente. Questo vuol dire circa un 3 milioni di persone in più erano su internet o su un sistema OTT. Questo ha cambiato fortemente i modelli di consumo degli italiani. Gli italiani si sono trovati in una situazione straordinaria e queste cose le abbiamo viste nei dati, riflessi nei dati che noi vediamo tutti i giorni. Un'altra cosa che ha detto correttamente Alessandro e anche Nino, noi oggi dobbiamo offrire tutti quanti un'esperienza personalizzata agli utenti. L'esperienza personalizzata spesso viene implementata da un'azienda tramite una catena di sistemi nella catena produttiva, sistemi diversi che interagiscono tra di loro. Questo porta a una complessità ancora maggiore perché oggi ci sono sistemi diversi che hanno a volte algoritmi di machine learning differenti e che interagiscono tra di loro. Queste complessità si sommano tra di loro, quindi una delle sfide che secondo me ci saranno nel futuro sarà quella di riuscire a governare, a offrire la migliore esperienza, ma chi offrirà la migliore esperienza all'utente sarà anche chi sarà in grado di costruire e guidare la migliore catena produttiva. Questo ovviamente porta un livello di complessità anche nella condivisione dei risultati. Se noi pensiamo a come le nostre aziende oggi interagiscono, parlo di noi, verso il board delle nostre aziende, dobbiamo tutti noi portare dei risultati. I dati oggi vengono utilizzati per portare questi risultati, ma questo compito rischia di diventare sempre più complesso perché portare un risultato di un algoritmo di machine learning, di intelligenza artificiale, può essere non banale, può essere preso come un rischio eccessivo in certe situazioni e quindi a volte alcuni progetti che potrebbero avere dei grossi risultati sul mercato potrebbero venire bocciati per un problema di comunicazione o comprensione. Quindi l'utilizzo dei dati sta entrando, sta cambiando nella nostra realtà, ma noi dobbiamo evolvere anche le nostre competenze per riuscire a guidare le nostre macchine e a portare i risultati sul mercato. Ecco Gatti, torno un attimo da lei e poi sentiamo anche Matteo Coloberti per quanto concerne la domanda che farò adesso riguarda i limiti. Quali sono secondo lei i limiti per cui non si riesce davvero a investire sul dato e quali fattori abiliterebbero lo sviluppo di una vera e propria cultura del dato in azienda tale da rendere la stessa realmente antifragile? Allora, io partirei da quasi un paradosso dicendo che i limiti oggi dei dati, di portare la cultura del dato in azienda, è il dato stesso. Lo dico perché partiamo magari da questo tipo di problematica per poi andare un po' più verso la tecnologia e verso l'utilizzabilità dei dati e dell'influenza artificiale all'interno delle organizzazioni. Allora, quali sono le problematiche oggi che ostacolano un attimino la diffusione della cultura del dato? Ma innanzitutto i dati non sono completi. Ho detto che prima, rispondendo alla domanda precedente, i dati sono una rappresentazione del mondo fisico e dei processi e dei progetti che si fanno in azienda sempre migliore, ma i dati anche per la complessità del mondo non sono completi. Non sempre abbiamo a disposizione tutti i dati che servono per descrivere un processo, capire il nostro cliente, capire quello che succede in azienda, quindi i dati non sono completi. I dati che sono in azienda spesso sono in silos, sono spesso frammentati. Ha raccontato bene Matteo prima la complessità della filiera del dato in azienda. Dico spesso, citando un autore americano, che il data flow, cioè come fluisce il dato in azienda, is the new cash flow, cioè quando il dato fluisce molto bene in azienda i risultati arrivano anche in termini economici nelle aziende. Non è un caso che le grandi big tech, le aziende innovative, le start-up, sono molto efficienti perché hanno avuto la possibilità, essendo giovani, essendo recenti costituzioni, di creare una filiera di flusso dei dati all'interno delle aziende ex novo, quindi senza legacy che alcune industrie in giro per il mondo hanno. Quindi arrivo poi al tema della cultura del dato. La cultura del dato è qualcosa di molto importante, quindi che afferisce al dato stesso e distribuire il dato in azienda, distribuire la cultura del dato dell'endenza vuol dire decentralizzare questo potere del dato e vuol dire, citando Nassim Taleb, che ha parlato di antifragilità a livello internazionale per raccontare questo paradigma molto importante nel senso moderno, porta decentralizzazione e porta robustezza nelle aziende. Passando invece velocemente al tema della tecnologia, di come la tecnologia si distribuisce in azienda, quindi tecnologie afferisce più al mondo dell'intelligenza artificiale, sicuramente oggi le tecnologie non sono facili da usare, non sono sufficientemente facili per poter raggiungere ancora tutti i stakeholder che ne hanno bisogno e che ne utilizzano e che ne utilizzano quotidianamente. Questo è sicuramente un ostacolo all'interno dell'organizzazione. Non sono facili e non si fa, in relazione alla loro complessità, sufficiente formazione. La formazione all'interno dell'azienda è qualcosa di molto importante in questo ambito, nell'ambito dei dati e dell'intelligenza artificiale. Per esempio, per fare un esempio di quello che stiamo facendo in Nexi, in Nexi da circa due anni abbiamo attivato una Data and Artificial Intelligence Academy, in cui all'interno dell'azienda, i champion interni alle aziende, con le tecnologie che usiamo all'interno dell'azienda e con i dati con cui poi i vari utilizzatori lavorano con queste tecnologie, eroghiamo corsi di formazione interne, quindi con tecnologie che usano e dati che usano. E questo sicuramente facilita poi l'estensione, la distribuzione della conoscenza all'interno dell'azienda e soprattutto se poi chi fa la formazione è una persona interna all'azienda, con magari il supporto anche di esperti esterni, ma è lui che poi nel day by day lavora con il business, lavora con le persone e poi spiega agli utilizzatori come si utilizza, magari si ragiona anche di possibili futuri utilizzi. Se posso, un'ultima problematica nel distribuire la cultura del dato e dell'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda è questa separazione, anche questa frammentazione tra information technology, chi lavora nell'IT e chi lavora nel business, che lavora nonostante tutto quello che la metodologia agile e la cultura agile sta portando all'interno delle aziende, non solo all'interno delle aziende tech, la separazione tra IT e business non favorisce la distribuzione della cultura che spesso è all'interno di aree specifiche dell'azienda e fatica a esprimersi a pieno all'interno delle organizzazioni. Ecco, Matteo Coloberti, lei è d'accordo o avrebbe altri punti di vista da presentarci? Mi ritrovo a 100% su quello che dice Stefano. Io posso aggiungere anche dal mio punto di vista uno dei limiti che noi oggi abbiamo in Italia è quello di riuscire a portare questi progetti di machine learning e di intelligenza sul mercato. È un problema di persone, è un problema di processi, di competenze e se penso a aziende che magari non sono ancora ben strutturate, a volte avere a che fare con questi progetti può essere complicato. Un progetto che applica algoritmi di machine learning sui big data con la potenza di calcolo che noi oggi abbiamo sui sistemi distribuiti può comportare dei costi molto elevati. Quindi essere strutturati sia dal punto di vista delle persone che dal punto di vista dei processi per affrontare un progetto del genere lo ritengo essenziale. Per fortuna ci sono aziende oggi in Italia, anche aziende di consulenza che sono strutturate e che hanno competenze su questi progetti, quindi quella potrebbe essere una strada per affrontare queste realtà nel caso siano nuove per le aziende. Per quanto riguarda la cultura del dato, anche qua mi trovo con le parole di Stefano, la democratizzazione e la distribuzione, l'accesso al dato oggi è una cosa che forse siamo riusciti a raggiungere, quasi tutte le aziende che hanno dato come elemento core del business, hanno dei sistemi di business intelligence accessibili da tutti gli operatori. Una delle cose che dovremmo migliorare è nel insegnare ai giovani a ragionare sui dati perché come giustamente diceva Stefano, una delle cose è l'incertezza, la mancanza di informazione. Quando manca l'informazione si rischia di prendere delle decisioni su un dato incerto, quindi è una cosa che noi oggi facciamo ma ci vuole dell'esperienza per riuscire a fare nel modo giusto, nel modo da prendere il rischio minore e di prendere la decisione migliore. Allora, vorrei sentire un attimo Dottor Guarnacci e poi torno da Barchetti. Senta Guarnacci, quali sono le leve concrete che possono aiutare e dare una spinta alla nascita e al decollo di progetti realmente disruptive, soprattutto nel contesto che è sempre più incerto, volatile. che l'avevo usato all'inizio, ecco, all'introduzione all'acronimo VUCA che corrisponde a volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. Sì, allora, di base sono tre i fattori che concorrono ad aiutare, ad abilitare le aziende, le iniziative, le start-up anche, le start-up anche di concetto. Sono tre e sono di base le competenze, l'organizzazione e la tecnologia. Esattamente un po' riportando quello che diceva Matteo e Stefano in precedenza sulla parte della formazione, ovvero bisogna imparare a portare in azienda la cultura della formazione. In Italia non ce l'abbiamo questa cosa, no, però possiamo imparare a farlo. Cioè dobbiamo imparare che oramai non c'è più nulla di statico, non c'è più nulla che si possa sedimentare in azienda, quindi aspettare che magari maturi, ma bisogna poter cogliere delle opportunità. E queste opportunità si colgono se un'azienda, grande o piccola, meglio se piccola, comincia a ragionare nell'ottica della resilienza e dell'ergonomicità, cioè nell'adattarsi più velocemente al cambiamento, attraverso la cultura della formazione. Quindi riuscire a portare dei nuovi stili all'azienda o a svilupparli, tutto quanto cercando di mantenere anche, ben d'occhio, la parte del secondo fattore, che è l'organizzazione aziendale. Io ricordo, faccio parte di una task force di Federmeccanica sull'industria 4.0 e ricordo che nel 2016 facemmo un assessment su più di 1500 aziende manufatturiere in Italia, soprattutto nell'ambito del PMI, e ricordo che il responsabile della security all'interno dell'azienda era quello che installava gli antivirus. Questa roba era una roba che ci aveva lasciato sovrita da tutti quanti, perché effettivamente era un assessment sull'industria 4.0. Con le organizzazioni all'interno delle aziende avrebbero bisogno di essere le visitate. Sapete, in queste ore, in queste ore, è un fenomeno particolare, perché molti di noi stanno studiando che cosa sta accadendo purtroppo per questa maledetta pandemia, e quindi in queste ore molte aziende stanno imparando a misurare le performance delle persone piuttosto che a misurare gli orari di lavoro delle persone. Lo smart working è stato proprio, diciamo, l'effetto che ha lanciato questo tipo di volano, e questo volano, grazie alla cultura della formazione e grazie a una riorganizzazione aziendale in cui si vanno a premiare le competenze delle persone, possono aiutare ad adottare quelle tecnologie che poi effettivamente possono essere, la posta in gioco per essere competitivi sui mercati, non sui mercati solo nazionali, ma anche internazionali. Quindi quando parliamo di start-up innovative italiane, parliamo della conquista di un mercato che non sia necessariamente solo locale italiano. Quindi se noi guardassimo la tecnologia, e mi piace riprendere un termine che ha prima usato Matteo, dobbiamo fare in modo che le aziende, le iniziative di start-up, le piccole e medie aziende soprattutto, si rendano conto che siamo nel mezzo di una rivoluzione che è iniziata un paio d'anni fa e che si chiama cloud. Il cloud che cos'è? Potremmo passare ore qui a spiegare che cos'è il cloud, però se dovessimo dargli una definizione da manuale, potremmo dire che il cloud è la democratizzazione, per usare lo stesso termine che aveva usato prima Matteo, la democratizzazione dell'accesso alle tecnologie. Che vuol dire? Vuol dire che a parità di tecnologia, due aziende, sia grandi che piccola, hanno le stesse opportunità. Ovvero, se noi cominciamo a pensare che ci troviamo in una subscription economy, cioè un nuovo mondo in cui io non acquisto più il software, ma in una logica di multi-tenant, un termine un po' troppo avanzato, però in una logica in cui c'è qualcun altro che si preoccupa a me di installare il software, di configurarlo, di proteggermelo, di rendermelo accessibile, disponibile e io ho solo la necessità di dover acquistare la sottoscrizione e quindi a seconda delle dimensioni della mia azienda comprerò più o meno sottoscrizioni, ma il software alla base è lo stesso, quindi le potenzialità sono le stesse che ha una grande azienda. è quanto io sono in grado poi a questo punto di creare questa sinergia tra competenze, organizzazione e tecnologia che ne fa la differenza. Salesforce dal 1999 a oggi è oramai leader nel mondo sia dell'enterprise cloud che nella customer access. Abbiamo sempre adottato come valore questo che è il customer access. Siamo basati su quattro valori, il tratti, i innovabili, le quali, ma soprattutto la customer access, cioè siamo attenti a cosa si aspetterebbero i clienti dei nostri clienti. È su questa logica qui che noi normalmente agiamo con il posizionamento di quella parte di cloud che si prende il nome di SaaS, di software. Quindi quello che oggi le aziende hanno, immaginate per esempio quante volte vi sarà capitato di accedere all'internet banking tramite un'applicazione web. Di base state utilizzando un'applicazione SaaS, cioè la vostra banca vi mette a disposizione un'interfaccia, voi avete un account, accedete a quell'account, potete movimentare, potete fare delle operazioni, raccogliere delle informazioni limitatamente al tipo di contesto che avete. Immaginate se si possa liberare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, dei vari news cases dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato prima in un'ottica cloud, in un'ottica di software as a service. Ecco, in realtà questo è quello che stanno facendo i clienti che hanno scelto Salesforce e non solo Salesforce, chiaramente riporto l'esempio di Salesforce, ci sono diverse aziende che stanno contribuendo a portare questa rivoluzione all'interno del mercato. E io penso che questi tre fattori, io penso, diciamo è abbastanza oggettivo che questi tre fattori, le competenze, l'organizzazione e la tecnologia siano i fattori abilitanti per poter iniziare e semplificare questo progetto. Ecco, giusto per riassumere quanto detto durante questo panel, vorrei tornare da lei a Alessandro Barchetti. Abbiamo parlato delle sfide con lei per quanto concerne il settore, ma quali sono i passi che sono stati fatti, i passi in avanti ovviamente dall'inizio della pandemia per quanto concerne il settore? Il settore è stato costretto un po' con la forza a reagire, un po' perché si è trovato coinvolto in prima persona, in prima linea per resistere, per supportare la popolazione in quello che è un'esigenza primaria, cioè quella di avere del cibo a casa. Quindi ha dovuto reagire, ha dovuto velocizzare alcuni processi e sostanzialmente buttarsi magari a fare cose che non aveva fatto fino a quel momento. Ci sono esempi di aziende molto strutturate che hanno fatto operazioni molto interessanti, di aziende meno strutturate, meno preparate, che hanno fatto operazioni cosiddette quick and dirty, cioè veloci in modo da poter offrire un servizio, tra le quali che siamo anche noi che abbiamo aperto in pochissimi, un paio di mesi hanno aperto ben dieci click and call. Ma all'ilà di questo tutta la vita stessa all'interno dell'azienda è stata ripensata, perché ci si è accorti che non c'era una certezza, non c'è nessuna sicurezza che il funzionamento dell'azienda che fino ad oggi ha dato dei risultati possa dare risultati anche in futuro. L'abbiamo visto, abbiamo fatto un salto in avanti di circa 5 anni, secondo gli analisti, in termini di sviluppo software, in termini di adozione software, di adozione di sistemi software, di conseguenza non è più possibile per l'azienda restare fermi. C'è la necessità di buttare il cuore al trostacolo e di investire su quello che molto della vecchia guardia del management dell'azienda ritiene rischioso, pericoloso e soprattutto molto molto gustoso. Grazie, grazie mille. Vorrei ringraziare i nostri panelist, appunto Alessandro Barchetti, Digital and Innovation Director UNES Supermercati, Matteo Coloberti, Head of Business Intelligence Infinity Gruppo Mediaset, Stefano Gatti, Head of Data and Analytics Nexi e Nino Guarnacci, Principal Solution Engineer Salesforce Italia. Grazie mille a tutti quanti. non lo so se sono riusciti a sentire. Grazie, 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 arrivederci. No, infatti volevo assicurarmi che mi avete sentito perché non vi ho visti inquadrati, quindi non capivo appunto se siamo riusciti a salutarci. Grazie mille per questa discussione e a presto. Arrivederci. Ciao. Ciao. Allora noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, però rimanete con noi perché continueremo con i nostri approfondimenti. pubblicitaria, però rimanete con i nostri condimenti.